Ed ecco qua abbiamo un mursello catanzarise però fatto qui a Mallorca perché vendono dei pacchi di un chilo dove già c'è dentro fegato, polmone e altre cose. Invece questo è lo spezzatino italiano, spezzatino. Adesso vi dico buon appetito però me lo mangio io, ciao! Ecco qui la mia bella porzione di morsello, ma come ho già detto prima siccome sono sopra sull'isola di Mallorca, l'abbiamo fatto anche qui perché vendono i pacchi da un chilo dove ci sta dentro il fegato, il polmone, mi sembra milza, ci mancano solo le budelle ma non so nemmeno se ci vanno. Buon appetito di nuovo! Qui abbiamo invece lo spezzatino e qui c'è la padella con di nuovo sprezzatino.